Svideogame YouTube, Svideogame, un minuto Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, Svideogame e sono qui perché sono sempre su Go Simulator e volevo provare Chameleon Goat e Bumbleying su Go Simulator volevo provare questi mutatori perché mi sembrano simpatici uno cambia il colore della capra e l'altro tira delle bombe esplosive solo che ho notato che la R è la stessa lettera forse si può cambiare le cose però tanto per farvi vedere io depongo un'anguria che poi è esplosiva adesso lì però non era divertente metterla lì e nel frattempo vedete che schiacciando R cambio anche di colore aiuto, non devo rimanere qua dentro ecco per esempio facciamo saltare una macchina con la bomba e dicevo cambia anche colore se vedete cambia anche colore vedete gialla, verde così a strisce bellissimo, così tigrata così sembra un po' mucca aiuto si allora usate e poi è forte che depone le angurie esplosive dai simpaticissimo dai allora bomba qua siamo molto vandali beh questo gioco è un po' da vandali però decisamente devo andare al supermercato andiamo a fare del casino al supermercato allora signor commesso eh sì ma questo qua non è commesso ecco gliela metto qua eh eh shit merda sì proprio bomba aiuto bomba fammi uscire però fammi uscire però no che scoppia la bomba no e sto lanciando anche 3000 bombe insieme no che casino sto facendo fammi uscire fammi uscire allora mi sto un po' incastrando ma facciamo una cosa mettiamo la bomba lì a cosa sto con la lingua cosa ho preso una coca cola mmm vedi la coca cola cosa sono di fuoco wow fammi uscire fammi uscire allora aiuto ragazzi mi stavo incasinando guarda sono color fuoco io nel frattempo sparo bombe ovunque no vediamo ecco per esempio qua dai mettiamo una bella bombina allora mi avvicino piano ma non scappate subito questo è il mio cellulare gente sarà sicuramente Bebo cosa dici Bebo sto impazzendo con la cattiveria perché sta montando una playstation sta si vede che non riesce a far combinar le cose bombarolo verde oh mi sono bello verde che strage che ho fatto dai wow l'ho polverizzato vuoi la mamma pacco cane ste angure esplosive sono potenti dai prendi il time 3 si voglio provarci a fare tanti punti vediamo a disse veniamo tante di quelle bombe che parte e cresce guarda che strage aiuto provvediamo anche il razzo si possono tirare le bombe da qua in alto? ah le posso sparare anche dall'alto allora assurdo rotolano rotolano è geniale sta cosa va bene allora ho vinto contro i matrix ancora i matrix li ho batto sempre e sul trampolino una bella bomba aspetta guardate guardate le bombe che rimbalzano sul trampolino spettacolo boi 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 adesso proviamo sali la tiriamo da là la bomba cosa veramente inutile la 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 come cammini con le zampe in alto wow come sei brava capra voglio farla no rotola da qua aspetta ah no aspetta mi devo mettere così no no ma no no ma che cacchio fai allora aspetta facciamo così allora mi metto così e facciamo scendere aspetta no ma no vabbè vabbè va bene anche così dai io voglio vedere l'anguria scendere boi boi allora sali capra sempre più in alto sali capra sei la nostra eroina sei la super eroina delle nostre che cavolo sto cantando veramente questo esemplare di ovino sta salendo questo edificio predisposto edificio insomma no non voglio andare in alto no aspetta però proviamo anche a lanciarla una qua no 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 non cadere non cadere no aspetta lo facciamo da dalla più in alto voglio provare però no devo essere a limitare là allora andiamola in fondo ah c'è anche l'ometto vero c'è l'ometto sempre stai lì beh voglio vedere se salti con la bomba no sono mi sto ecco buonanotte mi sono quasi chillato da solo allora girati girati e defecchiamo una bomba non si sente neanche il suono sono troppo in alto e niente dai noi lanciamo le bombe qua esploderà sto ponte e va coccano eeeh spara mi diverto troppo mi daranno del terrorista in questo video no no ragazzi questo è un gioco dai mi piace questo mutatore delle bombe eh vi dirò mi diverte molto va bene dai adesso ragazzi voglio provare anche qualcos'altro a differenza del bump line se voi mettete carpet bumping pioveranno dal cielo le bombe aspetta ma non capisco però in che posizione allora come mi devo mettere per piovono a caso sto schiacciando R sto cercando di capire vedete io schiaccio R si piovono dal cielo ecco sì adesso la vicinanza o meno vediamo qua se riesco a farle piovere una pioggia proprio una pioggia di bombe praticamente va bene anche questo l'abbiamo visto basta basta benvenuto bump throwing ecco questo qua dovrebbe lanciare le bombe davanti a te quindi abbiamo visto uno che te le posiziona dietro che praticamente caghi le bombe uno che te le fa piovere dall'altro e questo qua te le spara vediamo ecco te le spara davanti a te ecco poi ecco forse è questo qua veramente esagerato veramente cioè distruzione totale aiaa sapevo che non è che si possa ammirare tanto camion adesso basta mi hai stufato adesso ti faccio saltare camion si vabbè è già andato in là il camion ehi te ti becco no? cerco di mirarlo omino cadono sul tetto della casa non riesco a prenderlo omino e allora ma che perché no? che crepa omino oh là sei defunto va bene dai vi saluto con un bel saltellino vabbè basta dai ecco metto qua in mezzo no aspetta voglio farlo in un posto al chiuso va bene dai ciao a tutti da sbito bombarolo ciao a tutti